Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore. Si compie in me la Tua parola. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre. Tu che nell'annunzio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ora preghiamo insieme con la supplica alla Madonna di Siponto. O Maria, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa, generazioni di credenti si sono rivolte fiduciose a Te con il titolo di Vergine Santissima di Siponto. Guarda a noi, Tuoi figli, in questo tempo di preoccupazione e di sofferenza per il contagio che alimenta la paura, ostacola le relazioni ed impedisce la normalità delle giornate. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Tu che sei uscita dalla Tua casa per essere vicina ad Elisabetta, soccorrici nella nostra fragilità. Visita i malati, illumina le scelte delle famiglie ed ottienici dal Figlio Tuo, Gesù Cristo, la liberazione dall'epidemia che ci sta minacciando. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Madonna Santissima di Siponto, veglia sul Tuo popolo. Dona sapienza ai governanti e agli amministratori, perché sappiano prendersi cura del popolo affidato alla loro responsabilità. Sostieni chi si spende per i bisognosi, i volontari, gli infermieri, i medici che sono in prima linea nel curare i malati, anche a costo della propria incolumità. Ottienici dal Signore la benedizione della Chiesa. A partire dai Suoi ministri, rendi la segno e strumento della Tua luce e della Tua bontà. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del Tuo Seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. O Maria, consapevoli dei nostri peccati, ci affidiamo a Te, Madre di misericordia. Accresci la nostra fede, accompagna le famiglie, rinsalda l'armonia tra i genitori e i figli, preserva gli anziani dalla solitudine, fa che nessuno sia lasciato nella disperazione dell'abbandono e dello scoraggiamento. Intercedi per i poveri. O Vergine Santissima di Siponto, accogli le nostre preghiere e risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di sicura speranza. Amen. Salve, Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra. Salve, a Te ricorriamo, esuli figli di Eva, a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Grazie a Dio.